Gente che corre, fa sport E poi c'è lui Che si mette A calzamaglia 33 easy Dai photos, hacks and tricks Dai, dai Vuol dire Do it yourself Cioè fallo da solo, in pratica sono trucchi Fai da te per fare le foto Ma riesci una volta A prendere quello giusto? Non è possibile Questo dobbiamo provarlo Ah col disco Sembra un buco Un brano Non ti metto a fuoco Ma perché? Beh qualcosa c'è Non è come nel video però Guarda, guarda Figo eh Questa cagata No, secondo me Cioè allora, in teoria sembra una roba assurda così Ah perché scegli lo sfondo Esatto Ah con il pc Esatto Dobbiamo farlo Useremo questo computer come sfondo lucido Eh non posso fare un c***o Vedi che ti apre tutto Ti schiaccia i tasti Ok Metti lo là Oh, spostati Beh dai Prova una foto adesso Hai presente quando Il flash è potentissimo E si Oh Oh Sì Ogni giorno Tutti i giorni Sarei paparazzi Ecco cosa bisogna fare Vai al McDonald's Vai a prendere un panino Tadà C'è C'è così Ma chiaramente Ma funzionerà di sicuro questo O no? Bustina Stupendo Chiaramente funzionerà Funzionerà di sicuro Multiple person illusion Ah questo l'ho fatto anch'io Assolutamente da provare E' venuto uno schifo indecente Le panoramiche in verticale Questo Non ci ha pensato nessuno Io non ci avevo mai pensato fino ad ora Guarda questo è bellissimo Ah sì Wow Fai un sacco di foto E poi E poi Hai una foto in cui muovi l'acqua Eh? Assurdo Questo L'ho visto un sacco di volte Ma io non ci credo Ma io non ci credo neanche morto Io Io Non ci credo Hai capito cosa fa? Tipo da Come si dice? Da lente Usa Usa la goccia come lente di ingrandimento Non lente di ingrandimento No Cosa? Sì sentiamo Un momento ragazzi Per favore ascoltiamo Stretto scopio Stretto scopio Hai la calza maglia Da buttar via Vabbè Ok E che effetto fa? Wow Madonna Wow Madonna Ma prima Dopo Ma come fai a vivere? Cioè la mia vita è cambiata Cioè scusa Così puoi far finta di essere in mezzo al deserto del Sahara Senza problemi Ma fazzesco In mezzo a una tromba d'aria piena di sabbia Salve mi scusi Potrebbe farmi una fotografia per favore Una foto col telefono? Sì 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 Ma una foto normale o una foto bella bella? Una foto più bella che può Ok Questo bisogna provarlo Eh no vieni tu Vieni a vedere Sì vieni Hai bagnato Porco Say money not cheese Ma sono seri Cheese Guarda che schifo Cheese Non si dice cheese No 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 Ma scusa Cioè vuoi dire che lei dice Lei dice Cheese Sì esatto E invece money dice Money Cosa? Aspetta Allunga il collo Perché hai presente Quando tu fai le foto E di colpo ti parte il E certo Non è capita sempre Tutti i giorni E invece E invece Ah capito Invece che Beh Guarda che è un trucco assurdo Non ci avevo mai pensato Invece che fare così Nelle foto Devi fare così Show real emotion Cosa vuol dire? Mostra Emozioni reali Sì questo l'ho capito anche io Ma cosa vuol dire? Vuol dire che non devi sembrare Psicopatico Ma chi è che fa le foto così? Cioè Ma Ma che consigli sono? Se io vengo di m***a Nelle foto Cioè Non è che io voglio Venire di m***a Perché faccio schifo Cioè Non c'è una soluzione Al far schifo E no Perché Il tuo problema È che devi far vedere Le emozioni reali Guarda la differenza Vedi qua Si vede chiaramente Che è falsa Dopo si farà vedere Cos'è la vera emozione Ma vero ok Vediamo Questo Questo è vera emozione Vedi? Esatto Vuoi un po' di Schweppes Solo io e te È questo È questo Cioè Spiegami No ma aspetta Aspetta Devi combinarlo Insieme al collo Questo dice Ci vediamo dopo Questo dice Ci vediamo dopo Cambia il tono di voce Know your angle Know your angle Ah Vedi Vedi che schifo Hai visto adesso Hai visto La differenza È sostanziale Signori Cioè Da così A così Ma anche te Guarda Guarda Girati verso Dall'altra parte Visto che schifo Come Mettere in posa Beh Hai presente Mentre ti fanno la foto Si esatto Ti scappa la cacca Guarda che mi capita Un botto di volte Che mentre mi fanno le foto Mi viene Da fare questa posa Perché non è Ma sempre A parte il fatto Che effettivamente Tu l'hai fatta Tu l'hai fatta Quindi taci È vero Invece devi metterti Oh Giusto Non ci sarei mai arrivato Ragazzi Veramente Oh no Ma cosa sono Ste cose Cos'è Life hacks Ma che Trucchi della vita È la vita Ma che Scusami un attimo Scusami Chi è che si fa le foto così Chi Nessuno Io Bello Ma il bello Che fanno una posa Completamente ridicola Che non farebbe mai Nessuno Nella storia E poi una posa normale Wow Ma che faccio c'è al tipo Ogni volta Questa videocamera Smette di registrare E mi fa raviare però Mi girano un po' le balls Cioè quindi Queste sono Le cose più utili Ok Le migliori Le più utili Sì Trucchi E hacks Per fare le foto Sì Sì Migliori In assoluto Sì Grazie a tutti.